Ciao ragazzi, oggi tagliamo tutta questa roba Oggi facciamo un video sulle cose da cucinare E come potete vedere abbiamo tante cose Possiamo fare un bel minestrone Possiamo mangiare un po' di frutta, un po' di pane Aspettate, alla fine dobbiamo fare tutto il sottotitolo Ok, quindi adesso cosa cuciniamo? Una bella pannocchia Ci ha fatto tagliarla tutta? Sì Oh mio Dio, è volata via un pezzo di pannocchia Mettiamola qui dentro Poi cos'altro cuciniamo? La melanzana Cos'altro possiamo cucinare? Una anguria, no vabbè questa la mangiamo così Tutta a belle fette E a cosa scegliamo? Una zucca, un peperone, una cipolla Beeeh, una cipolla Che cosa abbiamo lì? Un pomodoro Attento che scappa Attento Vai taglia, ce la fai? O hai bisogno di una mano? Mamma mia Vedete dentro? Wow E' il sugo Vedete la scatola Sugo di pomodoro? Vedete la scatola Questa è la scatola dove c'erano le cose da mangiare Ci prepariamo a cucinare una bella carotina Io sono un coniglio Ehi coniglio Non mangiare sempre tutto Ehi la carota è mia Come potete vedere questi giochi sono di legno Alcuni sono di legno E sono stati acquistati da Lidl E sono portati da Babbo Natale Certo E come vedete Perché potete vedere E quindi la carotina è stata tagliata Benissimo Adesso che prendiamo? L'uva Buona Buona l'uva Andate a portare sul coso Ok Poi Che dici? Tagliamo una fragola o una cipolla? La più buona Ah Buon gustaio L'anguria E poi per gli amanti del sushi Abbiamo anche il pesce I cinesi si mangiano I cinesi? Anche gli italiani mangiano il pesce tutti Ma a me non mi piace A te non ti piace? Un altro pomodoro Per fare un bel sugo Con le polpette Ti piace il sugo con le polpette? No No? No Ora vogliamo tagliare il sugo Vabbè adesso abbiamo i piselli I piselli I piselli Già fatti Bo 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 Ragazzi Questo che cos'è? Un kiri Cosa? Un kiri Questo che cos'è? Un fungo Un fungo Facci vedere? Facci vedere? Uh che carino Te lo mangi intero E dobbiamo lavarlo Dobbiamo cucinare Aspettate Dove è stata la carota? La carota? La La Ok Si Facciamo Vi facci vedere Sì Cosa ci fai vedere? Che ti mangi la carota? Si Sono un coniglio Coniglio Mattia E poi? Il funghetto Lo tagliamo? Lo facciamo a pezzetti Sì E poi Lo tagliamo a pezzetti Ok Lo facciamo per terra Per terra? Oh mio Dio No E questo lo facciamo dentro Ce l'hai un po' di pane? Eccolo qua Taglia un po' di pane La ricetta ce l'aveva Un po' di amuria Sì Hai le zucchine? No Sì che ce l'hai E' lì Qui Questa è una zucchina E dici Se avete le arance Cioè avete le arance In questo ristorante? No No? Sono finite le arance Sì E si devono comprare Io voglio un'arancia E non ce l'abbiamo E va bene Che cosa c'avete? La zucca? Mi dici C'è un'altra cosa E le cipolle ne hai? Di cipolle? Ehi Le ho svicciate Capite Guardate qua Che belle zucchine E che belle cipolle Le abbiamo comprate Ah facciamo un bel risotto Con la zucca Un risotto Ragazzi Mangiate tante frutte E tante verdure Ciao 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 Grazie a tutti.